Salve a tutti gente, sono qui con il mio amico JAMA07 di AT, nonché di Eber, che è anche lui uno youtuber, stiamo per aprire la mappa dello Slenderman, le 8 pagine, questo è il codice se volete andarci anche voi, lasciate un like di supporto se volete che torneremo con altri video, come il segreto di questa mappa che abbiamo scoperto, questa mappa creative, non di questa, proprio della mappa creative. Comunque, non sappiamo se è un segreto, ma ve lo sveglieremo, intanto adesso lasciate un like qui sotto, iscrivetevi al canale, nonché mettetevi la campanellina, per non perdere altri video, adesso entriamo, vai, 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 entri, entri. Oh, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, insieme a Vale, a Valentino, con la sua intro molto creepy, iniziamo bene il video. Ok, io non so ancora cosa fare qui, perché abbiamo scelto sta mappa, così. Volevo spegnere, dopo vedremo. Ok. Sono in un'isola, c'è tantissimi alberi ci sono, sto cadendo. Ok, io sono dentro una casa, chiuso a chiave. Eh no, io sono dentro una casa, casissimo. Ma io vedo della roba qui. Oh, ti vedo, ti vedo. Però io sono chiuso qua dentro. No, sono nato fuori dalla macchina. Ah, ma posso scendere. Sono nato fuori dalla macchina. Magigi. 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 Iniziamo bene. Non posso entrare nella casa, iniziamo benissimo. Mi sa che devo trovare una chiave. Rigenerazione. Rigenerazione, fai rigenerazione. Iniziamo bene questo video. Iniziamo benissimo. Vale. Ma io sono un spettatore, farà rigenerato, per favore. Anche qua. No, perché dopo mi metti in modalità spettatore. Ok, ragazzi. Iniziamo bene questo video. Iniziamo benissimo. Con la mappa che si bugga. Lo produci nuovamente. Un video decente e non riusciamo a farlo. Allora. Sei dentro? Sei fuori. Io non sono in una casa. Sei spawnato fuori. Ma perché? Perché sto andando fuori dalla mappa, è tutto buggato. E' tutta buggata questa mappa. Aspetta, io vengo, sono sopra di te, quindi se cado forse mi porto da te. Speriamo. Scendi giù dal camino. Ma sì, ma tu puoi uscire dalla casa. No. Mi sa che devo trovare una chiave. Eh, allora. Eh, consuma. Una mela. Non posso prenderla. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccomi. Oh. Ma no, ma c'è una barriera. C'è una TV qui. Change channel. Sto capendo niente. Un luxo, oggi, water for the next couple of days here in Wisconsin, visibility, is rogue stay safe. Eh, shish. Ma frate, iniziamo bene, ma mi sa che dovevo andare in modalità del spettatore soltanto per vederti. Io vedo altre robe. Non vediamo niente. C'è una TV qui. Ragazzi, non si può fare un video decente con sta qui. Ma no, ma poi ci sono le mappe buggate. Ma fate le mappe decenti, almeno, signorini. Eh, infatti. E poi io sono fuori dalla casa. Eh, GG. Cambiamo mappa. Mi vedi, mi vedi, mi vedi, mi vedi. Sì, sì, ti vedo. Ciao, sono fuori dalla mappa. Tu riesci ad aprirmi la porta? No, è bloccato. No, c'è una barriera. Oh, shish. Io qua, mi sa che devi andare avanti tu. Ma cosa? C'è una chiave, c'è una chiave. Fran, forse dobbiamo ricongiungerci. Oh, no, scherzate. Vero, aspetta. Eh, no, io ho found un marker, GG. Trovamo la chiave. Se c'è una chiave, trovala. Vendi là. Forse l'ho trovata. Spacca tutto. Preso della roba. Spacca, spacca. Un video decente, bello. Bellissimo. Questo video. Molto figo. Allora, andiamo sopra, vediamo un po'. Allora, già che ci sono. Non si apre la porta. Già che ci sono, guardo se c'è lo Slenderman. Guarda, guarda se c'è lo Slenderman, poi... Aspetta. Ah, ho capito, io devo trovare le pagine. Ah, morire. Capito, io devo trovare le pagine. Ma io qua sono chiuso, non so cosa fare. Dovrebbe essere sugli alberi delle pagine. Vabbè, ragazzi, balliamo. No, no, no. No, scusate, stavo scherzando. Allora. Io devo trovare la prima pagina per esempio. Oddio. Ah, no, vabbè, sono le mele. Ragazzi, io vi ricordo di attivare la campanellina, mettere like e iscrivervi al canale. Non è che è sul tetto. Non è che è sul tetto. Ve lo dico perché... Perché... Perché spero... Perché così non mi perdete nuove notifiche di altri bellissimi video come questo. Ma questo video non è bello perché è tutto bugato. Ragazzi, ho trovato una pagina. Page marker... Marked 1 su 8. Una pagina. Bella. Posso uscire adesso? Sì! Sono uscito! Ciao amico! Amico. Ok. Io sono un attimo castrato. Ecco, sei uscito. Sì, sono uscito. Sono uscito. E... Allora, dobbiamo andare in giro. Ah, no, qua non si può. Ah, mi sa che devi trovare delle pagine per sbloccare... Per sbloccare. Tipo qua è una roba che... Allora, vediamo un po' qui. Fra, quando trovi un'altra pagina chiamami che devo farla vedere nel video. Fra, ma così svegliamo a tutti dove sono le pagine. Un attimo, rega. Ma fra, lo sai che ogni pagina che prendiamo lo Slenderman diventa più cattivo? Ehm... Lo so. C'è un'arma che cantava in cucina. Ed è molto intonata. Allora. Ehm... Un in casa, no. Fra, l'ho trovata io in casa. Secondo me non c'è più niente. Eccola, eccola, eccola. Fra, l'ho trovata, l'ho trovata. Eccola, eccola. No, Fra, non l'ho vista. Vabbè, era una roba. Vediamo se possiamo uscire. Possiamo uscire. Possiamo uscire. Adesso si trova, eh. Adesso lo troviamo. Fra, qua la troviamo. Il camp, il camp. Il camp, il camp. Qua c'è sempre lo Slenderman. Devo trovare. C'è un... Cioè, se la trovi... Ma cos'è sta roba? Ah, no. Balliamo, balliamo. Se non vi chiamami, devo farla vedere il video. Sennò dopo è tutto burro. Ok, va bene, va bene. Guarda che lo troviamo anche sugli alberi. Se la trovo te lo dico. Così qualcosa... E poi è meglio vedere lo Slenderman, ma ok. Vabbè. Ma c'è lo Slenderman in questa mappa? Eh, lo so, infatti. Ci sono le 8 pagine, secondo me. Non c'è lo Slenderman. Figurati. Io c'ho paura di andare da solo, Fra. Eh, io lo dobbiamo... Oh! E qua, mi sa che lo dobbiamo sbloccar... Eh... Mi ero un attimo buggato, vabbè. È qua per forza, una cosa. È qua per forza, è qua per forza. Me la getto, me la getto, me la getto. Me la getto, me la getto. Me la getto, me la getto, me la getto. Bambù! Il bambù! Ehm... Però mi sa che qui è infame dove l'hanno messa. Eh sì, perché ci sono dato di alberi, di rocce. Un po' infame. E io un po' in forza non la riconosco nemmeno. Perché solo tanti tu le hai trovate. Oddio, oddio, oddio. Ma, Fra, aspettami, aspettami. Fra, io mi incastro sempre. Anch'io. Fra, se la trovo te lo dico. Ma come fate l'incastro? Aspettami, Fra, dobbiamo stare vicini che c'è lo Slenderman. Sight. Secondo te ci ammazza lo Slenderman? C'ho ben certo di vita. Esattamente. Ci ammazza, voglia? Allora, qua, vediamo. Oh, madonna, mi sa così sto muovendo. Qua è solo gioco. Qui è bloccato. Quindi abbiamo capito che potrebbe essere sugli alberi. Rega, un attimo. Chiudo la porta così. Facciamo. Allora. Questo video durerà più di mezz'ora. Anche se non è l'alberi. No, io posso giocare altre 15 minuti. Ah, ok, 15 secondi. Sembra un po' un pochino. Ah, ma che è il video durerà? Non metterò 17, 27. Rega. Forse qui. Questo è un indizio molto bello. Non so dove si trovi questa pagina. Rega. Adesso posso stare a 25 minuti. Ok, GG. A me, Fra, mi sta venendo un botto di ansia. Non so perché. Anche me. Ma che qui? Ma qui lo senti passi. Secondo te lo sento lo slender. Eh. Ma ti immagini. Spoi lo andiamo tutti. Ma me la. Ok. Allora, qua mi sa che non c'è nulla. Ecco, ecco, ecco. Fra, vieni, vieni, vieni. Fai vedere, fai vedere. Qui, qui, qui. È lì, lì, lì. E lì, lì, lì. Prendi tu. Ah, ma... Ah, abbiamo sbloccato un passaggio. Vieni qui. Adesso si incazza. Adesso si incazza. Ehm, un attimo. Dobbiamo... Ma mi ha dato 11.000 XP, una cosa. Magari l'ha livellato un sacco. Andate sempre in creative. Ma... Ma che altro che bottle. Altro. Fa, non ci passo. Dall'altra parte. Ehm, dall'altra parte, l'altra parte. Dall'altro giardino. Adesso, adesso c'è rabbia lo slender. Fra, non so capire dove devo andare. Fra già tre pagine. Già tre pagine. Qua prima non ero sbloccato. Ma non so dove... Ma non so che è bloccato un po'. Dov'è sta roba? Forse qui. Dall'altalena, forse. Dall'altalena, forse. E qui? Sì, no, qui. Qui? Sì. No, è bloccata. Qua è bloccata. Non so dove dobbiamo andare. Dall'altalena è presente dove c'era l'altalena. Dov'è? Portami tu, portami tu. Non mi ricordo più neanch'io. Qui siamo in casa. Ma qui non era bloccato. Forse è di qua, forse è di qua, forse è di qua. Hai ragione, lì c'è un'altra casa. Eh no, qua no. Vabbè, io avevo visto un'altalena prima. Siamo bloccati? Oddio. No, non siamo bloccati. E qua, 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 qua. No, aspettami. Fra qua. Aspettami, lascia... No, fra, ci siamo separati, lo Slenderman ci viene a prendere, lo sanno tutti. Ah, esattamente. Allora, non è qua. Qua sembra un albero allo Slenderman, perché è alto. È un albero. Ma dov'è la via qua che dobbiamo andare per... Aspettami, hai detto che l'hai trovata. Non l'ho trovata, sto... Non ho detto che... Allora. E allora. Allora. Il tuo video durerà più di mezz'ora, anzi. A voglia. Sì, infatti. No, no. In due parti. Forse di qua. No, qua ci eravamo già andati. Non mi sto facendo il video. Perché a volte mi è capitato, eh. Perché a volte mi è capitato sul serio. Che brutto. Perché o lo condivido... Fra mai era un parkour. Sì, è questa. È questa zona. Regà, non sto capendo niente. What? Tutto bugiato. Vero. Qui c'è una barriera, dobbiamo andare qua. Allora. Dove si può andare? Andiamo. Cos'era? Qua. Cos'era questo suono? Ecco, sì, è questo. È lo Slenderman. Oddio. Però lo stai facendo incazzare? È certo, ogni pagina diventa più forte e più cattivo. Un tentacolo, un tentacolo, un tentacolo, un tentacolo, un tentacolo. Serio? È lui. Ah no, non è un tentacolo. È un tentacolo. No, comunque io ho soltanto cercato di... Ma lì c'è una casina. Ah, quella di prima. Vediamo se c'è nella sabbia. Degli gnomi sono al centro di Fortnite, gli gnomi. Vediamo se c'è uno scivolo. Cioè, se c'è nello scivolo. Yeah, facciamo uno scivolo. Ho detto qua, mi sembra un parchietto di un film che ho visto. C'è un albero che si muove, c'è un albero che si muove, ok. Ok, siamo morti. Cioè, ti dico che potremmo la vederva da un momento all'altro. Vabbè, raga, ovviamente ci sarà la parte 2 perché non possiamo stare qua. Eh sì, forse addirittura un altro giorno perché io tra 20 minuti devo andare. Eh vabbè, raga. Vabbè, ormai avremmo memorizzato tutto, ci studieremo il video. Ah, non ci fa andare, non ci fa andare. Eh no. Fa sugli alberi, sugli alberi. Sugli alberi? Se vedi due alberi vicini che sono neri, scappa, te lo dico, scappa, se lo vedi. Due alberi vicini neri, scappa. E' l'unica cosa importante perché potrebbero essere le gambe dello slammer. Cos'era quello? Un slammer. Allora, è un parchetto minuscolo per non riuscire a trovare una... Voi ha un botto creepy. Un botto. Questa mappa. Io sento rumori brutti. Io non li sento. Aspetta, alzo il volumino. Alza gli effetti sonori. No, della tv. Io ho alzato il volumino. No, della tv. Oh, ma c'è un capanno. Ah, non si può. Eh no. Ma dobbiamo trovare la pagina qua. E' per forza da vicino ai parchetti. Vabbè, qua è per forza. Eh, infatti... Ma non è che ci siano dimenticati una dentro la casa? No, è possibile. Al massimo vediamo alla fine, però... No, fra, perché ognuna che troviamo sblocchiamo una zona. L'abbiamo già capito. Eh, ovviamente. Fra, dobbiamo stare vicini a uno slammer, non ti ricordi? Sì. Prende con i soli. Allora. Secondo me... Dobbiamo andare da un'altra parte. Allora, fra, secondo me, quando ci... Non c'è niente. Fra, quando uno muore deve mutarsi, dopo è un botto creepy. Vabbè, no, siamo in un video, ma gli ho. Fra, mi sa che qua non c'è niente. No, no, fra, dobbiamo andare in un parchetto. Per forza. Il parchetto? Non c'era niente in un parchetto. Forse qua sopra. Forse sopra qui. No, no, fra, per forza qua. Per forza. Voglio vedere qua. Guardate, non sta venendo paura. Non si può salire? C'è tutta... No, raga, ma mi sa che adesso mi viene a prenderlo il slammer, ma non spero. Raga? Non posso salire. Allora. Io resto qua ad aspettare, fra, perché... Per forza qua la pagina. Ma non è che attaccate le stazionate, siamo dei pirmi. Infatti. Adesso io sto guardando tutta le stazionate. Parkour, parkour. Sai che dobbiamo fare un po' di parkour, lo sai? Come? Sì, sì. No, fra. Fra, vieni qua la pagina. Per forza. O dimmi quando l'hai trovata? Fra, no, no, devi venire anche tu, ma quel cazzo me la trovo da solo. Cioè, ce l'ho da, per me ne devo stare da solo. Secondo me là il parchetto non c'è. Ma lo sai che ti prende per primo, perché io sono nell'ultima zona e tu sei nella prima? Eh, chi te lo dice. Probabilmente. Secondo me dobbiamo seguire... Madonna! Ho sentito... Questa roba qua di pietra. Scappo, scappo, scappo. È qui, è qui, me lo sento. Avete sentito, io sentito... Fra, comunque, più ci avviciniamo al parchetto, più i rumori si fanno più forti. Madonna, è vero? È qua! L'infame è qua. Mmm, infamone... Sei qua? Ecco dove vi porti i bambini, quindi che rapisci. No, pure li rapisci in questo. Ma non è che è qua? No, vabbè, ma è troppo difficile sto gameplay, raga. Raga, è impossibile! Ma cos'è sta roba? Aspetta, guarda qua nel... È sta roba. Già prima facevo un altro video così con un'altra mappa, abbiamo cancellato. Vale, sono andato qua di tantissimo. No, aspetta. C'ho paura. No, questo è il camp. Allora, vediamo un po' se qua... Ah no, questa qua è la pagina che abbiamo già trovato. Questa qui. Sì, perché ce l'hai quella che troviamo. Eh sì. Ma perché non c'è l'immagine quella che ci sono sul gioco di Slime? Non lo so. Cioè, è bruttissimo. Ho visto, vedo qualcosa a muoversi. Ma cos'è sto cartello? Oh mio Dio. E io giuro che, vi dico che è difficile. Secondo me dobbiamo seguire il sentiero. Allora, dobbiamo andare dalla... No, ogni zona su un po' c'è una pagina. Nel pacchetto, sono Alperforza. Impossibile, fra. Anche ci fossero facili. No, fra per forza nel pacchetto, lì vicino, tra gli alberi. Nel pacchetto è impossibile, perché... No, fra, perché ogni zona... In quella zona c'è una pagina. E non sono il pacchetto. Raga, io me lo sento che... Nel pacchetto, ma mi sento no. Sì, anche me lo sento. Controlliamo sugli alberi, c'è la cosa... Sugli alberi, dove adesso... Però secondo me questo video è già mezz'ora. È già un'ora. No, un'ora no. No, un'ora no, mezz'ora. No, qui davanti la zona è troppo creepy, secondo me è lì. Ma secondo me, dopo che abbiamo trovato tutte, dobbiamo scaffare. No, è vero, dobbiamo bruciarle. Ma farò gli inventari, ci sono rimaste le pagine. Ehm... A me no. Ma spero, non è che dobbiamo fare la parkour. Ah, io vi ho scoperto. Forse bisogna fare i parkour. Il parkour. Avevi ragione. Ehm... Ma qua dentro non c'è nulla. Infami che fanno i parkour. Ma qua non bisogna fare i parkour. È vero! È un genio, è un genio, è un genio. Questo ombrello dobbiamo rilasciare. L'ombrello serve per il parkour. Solo perché l'ho messo, perché era bello. No, no, ma qua secondo me non c'è nulla. Aspetta, dall'alto dovremmo vedere qualcosa. Dall'altro... Dall'altro... Non c'è niente. Ah, no, ai parkour si dobbiamo... Oh, guarda, guarda. Ma guarda, dove sono? Faccio qualcosa? Ora sono salito. No. Mi sa che questa mappa qui è un po' impossibile. Ma dove l'ha messa l'altra... L'altra lettera? Cioè, dove l'ha messa l'altra pagina? Allora, sugli alberi mi sembra un po' troppo difficile, quindi secondo me non l'ha messa negli alberi. No, perché nel gioco è sugli alberi, quindi forse sì. Però fra i ben trovati. Ah, forse ho capito, devo andare sulla tavola. No. Potrebbe anche essere nel parchetto, sai? Ah, certo che è nel parchetto, fra ogni zona ce n'è una. Aspetta, ma io non sono ancora andato nel tetto, sai? Vedete, lo troviamo. Non sono neanche andato nel tetto. Nella casa. Vediamo un po' se è sul camino. Non possibile. No, non è sul camino. Oddio, cos'è quella roba? Ah, non è invenzione. Sono due gambe. Cioè, per favore vieni qua da soli, troppo per il cuore. Io non mi voglio incastrare. Allora, io sono partito da qui. Chi è il tizio che mi ha dato sta mappa? Un pazzo. Un pazzo. Il creatore. Il creatore stesso. Ah, quando mi fa andare. Ti immagini, il creatore per sponsorizzare l'isola. E vabbè. Adesso non mi frega niente, vado subito. Vado su quel video e mi vedo come si fa. No, fra, ci fingiamo FK insieme e vediamo se arriva lo slender. Non vi entra. No, no, mi sa che bisogna trovare prima tutte le pagine. No, no, si fa vedere. Fra, nel gioco si fa vedere. Fra, facciamo la parte 2. Spero, dove? Aspè, qui fa vedere che è appena entrato, è nella casa. Facciamo... Vado solo qua. Oh, è il parchetto, è il parchetto, è il parchetto. Vediamo se la trovo. È il parchetto. Sono la parte del parchetto, fra, devi venire. Vieni, devi... Il 2 non ci attacca. Va bene. Sto guardando il video. Guarda il video. Sì, perché fra, cioè, in effetti è troppo... No, no, che se dove è entrato. È troppo infame. Dov'è? È invisibile. Come invisibile? Una sedia. Sono sedia? Qua. Ah. No, è tipo in questa zona. Ma che infame. È tipo in questa zona, non... Ah, no, scusa, non... Ah, sì, sì, è qua, è qua. Eccola, eccola. Prendila, prendila, prendila. Ma dai, ma cos'era quel posto? Ma cos'era? No, è stato più neitato lui. È stato più neitato. Oddio, sto morendo. È lui? È lui? Vai via, vai via. Devi scappare. Scappa. È lo Slenderman. Via. Fate. Ma ci toglie uno a hit. Ha tolto due di vita. Anche me? Farò neanche c'è il capanno. Adesso. Adesso c'è, è probabile. Questo. Non è questo. Abbiamo sbloccato un'altra zona. Sì, c'è l'altro lato, più cari, che l'altro lato della casa non... Non ci faceva mai. Oltre a qui. Vediamo qua. Guarda, lì, 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 lì. No, guardiamo dal video. No, non si può andare, no? Aspetta, qui non ci faceva passare. Qui non ci faceva passare, qui. Farai, non mi spoilerò altro. Non mi voglio... Aspetta, vediamo qua. Ah, forse qui? Ah, no, qua è bloccato. Forse qua nel grano. Ah, no, qua non si può andare. Sugli alberi. Se la città mi spoilerò dal video. Vabbè. Facciamo la parte due. No. Facciamo la parte due? No. Qua, 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 qua. Eccola, 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 eccola. No, aspetta, farò fare... Ah, no, una mela, una mela. Non scherzavo. No, la possiamo raccogliere, però. Eh, non si può. Mi serve una cura. È vero? Mi ho curato. Ma Fra, ma non la dovevi mangiare subito? La me la faccio... Eh, non me la faccio prendere. Qua ci serve una chiave. Per aprirla. Dobbiamo cercare. Sì, è vero, ha detto chi. Per te, per te. Ma dai, questa mappa però è troppo infame. Cerce. Oh, ho una chiave. Ho una chiave. Ahia. Io fumo da chi, ma c'è anche il messaggio. È troppo facile. Lo sennete qua davanti. Qua davanti. Franny davanti. Lì davanti. Franny davanti. Lo slenderman. Fra. Cioè, ma ne ho notato. Proprio ho visto lo slenderman. Fra. È vero che appena lo vedi questo scomplice. Fra. Era lì davanti. Era lì. Era lì. Mi ha aiutato. Entra. Cioè, tentato. No, ho bloccato. La chiusa. You found a key. Fra. Mi ha fatto aprire. Vai, 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 vai. Cerchiamo una pagina. No. 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 Non prende quando c'è lo slenderman. Non prende solo quando c'è lo slenderman. Questo lo sanno. Fra. Aiuto. Ho visto lo slenderman. Bruttissimo sei. Eccola. Ma è qua davanti. Guarda. Ah, prende. Adesso. Adesso. Adesso è l'altra zona. Ma poi è l'altra troppo profonda. Ma dovremmo morire. Ma a te quanta vita ha tolto? A te di meno perché hai mangiato la mela. Madonna, Fra. Quanto vita c'hai, Fra? Io 90. Io 92. Mamma mia. Che inquietanza. Che fa 10 di danno alla volta. Quanto si può ancora andare? Peccato. Forse abbiamo sbloccato. Fra, non posso più andare avanti. C'è bloccati qua? No. C'è bloccati qua? Fra, c'è bloccati qua? No. No. Ai 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 ai. Finché non lo vediamo città. Finché non lo vediamo città. Fra. Io l'ho visto. Ma dai troppo jumpscare. Ma dove fa? Mi ha tolto quattro di vita. E' l'altra zona. E' l'altra zona. Fra, andiamo qui. No, non si può ancora andare. Allora, dove dobbiamo andare? No, vabbè, sarà troppo inquietante su. Fra, resta qui e fermo. Resta qui e fermo. Che in due non ci dovrebbe attaccare. No, no, Fra, ci attacca e ci attacca. Resta fermo, resta fermo. Vedo il video. Secondo. No, ho cambiato video. Mi sporco. Che qui e qui. Fra, non ce l'ho andare. Ah, l'hai trovata? No, no, no. Cosa fa? In questo momento lui ha mangiato la nela e dici... Fra, ma non è che usando la minima... Fra, vieni. Ho sbloccato un passaggio. Ah, no, è sempre lo stesso. Ma come sei passato lì? Io non ci arrivo. Eh, ti devi... Devi prendere un'altra via. C'è nel senso... C'è un albero davanti, giusto? Ecco. Sì, e devi girare l'albero. Oppure Fra, vieni qua. Sto arrivando. Sono qua. Ma qui ci siamo passati poco fa. Eh, lo so. Fra, ma io non so dove bisogna... Ora sta fermo qua, ora sta fermo qua, ora sta fermo qua. Fra, andiamo in un c'è spuglio. Andiamo in un c'è spuglio. Andiamo in un c'è spuglio. Fra, se città, se lo vediamo, dopo in pratica... Sparisce. Questo video qua dura, era tipo un'ora. Ah, ma aiuto da dieci minuti, mi sa che dove andrà. No, è qui è andato... Eh, è andato sopra sta casa. È andato sopra sta casa. Come ha fatto? Non lo so. Qui fa passare. È andato sopra una casa comunque, è sopra una casa. Allora non è questa. Perché qua non ci fa passare. Qui mi fa passare. Ecco, è questa, è questa, è questa. Quella lì? Probabile. Come c'è andato? Non lo so. Parkour. Non sapevo. Bisogna fare parkour. Qua è la pagina. Qua è la pagina. Dove? È qua per forza. Qui dentro. Là sopra. So solo che è là sopra. Non so niente. Fra, forse ho capito cosa bisogna fare qua. Per andare sopra? Cosa? Andare qua. Fare un saltino. Fare un'altra. Ehi no, non mi fai fame sta roba. Poi. Ah no, forse un'altra casa che si deve tranquillare in questo modo. No, mi sa che hai ragione. Ah no, Fra. Un po' impossibile. Ma no, si può, si può, si può fare. Ecco, no. Ma no, Fra. È difficile, è difficile, è difficile. Ma che è sta mappa? È difficile. Ma, mi sa che la continuiamo a voi non. C'è un altro giorno, mi sa che la continuiamo a voi. Sì, sì, lo continuiamo a domani. Sì, sembra un'altra casa. Sembra un'altra casa. Non so se è una sospesa. Fra, forse quella più vicina. Ma, ma qui. Sì, ho capito. Ho capito. Fra, guarda, io l'ho trovata. Io l'ho trovata. L'ho trovata. L'ho trovata. Guarda, come siete? No. La parkour. Come hai fatto? C'è tipo un legnetto, c'è un legnetto. No, che infame. Ah, devo andare sul palo, sul palo. Fra. Fra. Aspetta, aspetta. Fammi provare. Posso fare? Mi metto davanti. No, sei sfidato. Vabbè, fai prima te, fai prima te. Beh, tanto, da due minuti devo andare. Perché devo andare. Bravissimo. Eh, una mela. Mangio io stavolta. C'è un 91 di vita. C'è una pagina? No. No. Tutto sto per quello per niente. Aspetta, forse sì, da qualche parte. No, ma non c'era una pagina, c'era la mela qua. Aspetta, un secondo. Un secondo. Abbiamo già cinque pagine, in generale. Sì, ce ne abbiamo cinque. Hai preso la mela? Adesso viene attaccato appena si ne va. Adesso, adesso arriva lo slammer. Ma speriamo, vediamo se c'è una pagina qua. Ma rovra. No, secondo me non c'è niente qui. Secondo, forse andando per la scuola. Vabbè, che lui è infame, quindi. Ma no, finché non lo vediamo ci attacca, lo sai, vero? Adesso dobbiamo scendere. Non c'è niente. Ci attacca poi, eh. Vai, 3, 2, 1, via. Non c'è niente. Ah, lui l'ha attaccato quando è sceso. Deve andare a questa parte. Sicuro che non ci sia una cosa. Una roba. Ma perché il piccone fa così tanto rumore? Non lo so. Vabbè, fra. Ma spero un secondo, ci riguardo, ci riguardo. Resta qui con me perché sono mi attacca. Forse è qui, forse è qui. Fra un secondo, resta. Ma è dove eravamo prima. No, 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 fra questa qua è un'altra casa. No, è la stessa. Ah, è vero. Un'altra casa. Sai che dobbiamo andare sopra il tetto. No, è la stessa. È la stessa di prima. No, è la stessa. Eh sì, c'è la porta aperta, è questa. Sì, ma dico la casetta lì. Forse lì, sulla sedia. C'è un... Genio. E però come si fa? Ho capito tutto. Dobbiamo fare il parkour qua. Dobbiamo fare il parkour qua. Era questa la casa. Ok. Che forza. No, fra, ma c'è un altro passaggio per fare il parkour. Fra? Ce lo fai? Forse io l'ho capito, io l'ho capito. L'ho capito, dobbiamo andare sulla punta della barca. Io tra due minuti devo andarlo, quindi dobbiamo un altro giorno. Sì, sì. Ce l'ho già provato io, Chris. No, un altro giorno noi arriviamo a questo punto e poi dopo andiamo avanti, ok? Sì, sì. Oddio, fra, secondo me è impossibile. Aspetta. No, è lì sicuro, Fran. Solo che non sappiamo come andarci sopra. Vedè che c'è un altro regnetto. Aspetta. Vedè che c'è un altro regnetto di cui non fanno. Vedè che c'è un altro regnetto di cui non fanno. Forse ho capito. Bisogna andare lì. Ecco qua. Come hai fatto? Devi andare sul tetto. Ah, ok. Un secondo, scusate. Subito, prima di subito, adesso. Che c'è, Emma? Che c'è, Emma? No, che c'è, Emma? Eh, ma no, non fa arrivare. Vabbè, raga, continuiamo. Vabbè, raga, noi ci vediamo in un prossimo video. In un prossimo video. Faremo la parte 2 di questa mappa. Ok, va bene. Ciao, ragazzi, ci vediamo in una prossima mappa arte. Esatto. Sì, un attimo, scrivo solo il titolo, devo scrivere. Ci vediamo in questa... Ecco, questa qua è stata la parte 1, è durata tantissimo, però noi ci vedremo nella prossima puntata. Bella!